Siamo in piazza Beccaria, è sotto la pioggia, ora che si passa a ricordare Paolo Borsellino e la sua scorta, di cui questi sono gli alberi che li rappresentano. Un saluto Lori, è una grande persona, morta per la giustizia dell'uomo, giusto. Un pensiero a ciascuno di loro in questa notte dove su Firenze ci sono persone che stanno ammalando. Aspetta, ora ci fermiamo sotto la...